I poveri, i poveri sono la persona che ho accanto a me. Non è perché non ha da mangiare, forse anche, non è perché veste male, forse anche, ma perché è un fratello bisognoso del mio amore, del mio interessamento, del mio avvicinarmi al suo cuore. Perché, sapete, qualche settimana fa a Siderno c'è stata la festa di Porto Salvo e sui social c'era scritto A Siderno migliaia di persone